Che cos'è l'app Coltibayer? Coltibayer è la nuova app di Bayer Crop Science pensata per aziende agricole ed esperti del settore che praticano un'agricoltura professionale. È molto più di un catalogo digitale, è un'app che integra per la prima volta in un unico strumento quella che è la nostra offerta in ambito di protezione, quindi con il catalogo Crop Protection. Tutti i nostri strumenti digitali a supporto delle coltivazioni e per la parte di orticoltura anche le varietà a marchio Seminis. Coltibayer è una pensata per chi ha bisogno di informazioni in maniera facile e veloce e risponde al bisogno di digitalizzazione del settore agricolo. Quali sono i punti di forza dell'app Coltibayer? Il più grande punto di forza di Coltibayer sta nell'approccio olistico alla gestione delle colture che offre questa app. Il nostro obiettivo con Coltibayer è quello di offrire agli agricoltori un supporto concreto per le loro decisioni quotidiane, che consenta loro di individuare le soluzioni integrate più adatte alle loro esigenze e quindi di ottimizzare l'efficacia dei prodotti scelti con uno sguardo sempre attento alla sostenibilità. In buona sostanza l'idea è quella di ottimizzare gli input preservando sempre qualità e quantità grazie a un utilizzo integrato di genetica, protezione e digitale. Ci puoi fare un esempio magari nel campo dell'orticoltura di come quest'app può essere a supporto degli orticoltori? Ma sì, facciamo un esempio, prendiamo ad esempio un agricoltore, un agricoltore che si occupa di pomodoro da mensa, quindi un pomodoro in serra, e si trovi ad affrontare delle problematiche legate ai nematodi. Questo agricoltore, grazie a Coltibayer, avrà la possibilità con pochissimi passaggi di identificare facilmente le varietà di pomodoro da mercato fresco più adatte alle sue esigenze e dotate di resistenza genetica ai nematodi. Al tempo stesso avrà la possibilità di integrare questa scelta con quella di un portainnesti dotato della stessa resistenza ai nematodi. Tutto questo verrà completato dalla possibilità anche di scegliere un prodotto nematocida a supporto come ad esempio Bioact Prime DC e Velum Prime. Infine, questa offerta, diciamo integrata, potrà essere ulteriormente supportata e rafforzata dal ricorso, dall'utilizzo di un prodotto digitale, nel nostro caso specifico Nematool, che è il nostro strumento digitale a supporto della lotta integrata ai nematodi. Grazie a Nematool c'è infatti la possibilità di monitorare la solarizzazione e di identificare il momento migliore per effettuare i trattamenti. Quali sono le caratteristiche dell'app Coltibayer che la rendono uno strumento completo per gli agricoltori? Coltibayer è uno strumento completo perché risponde a tantissime esigenze. Innanzitutto i dati di prodotto saranno sempre disponibili anche in situazioni di campo dove la rete internet è scarsa o del tutto assente. In secondo luogo costituirà un punto di contatto molto importante con i nostri tecnici, infatti all'interno dell'app sarà presente un form di facile compilazione che darà anche la possibilità di allegare delle fotografie direttamente dal campo. Per cui sarà molto più facile per gli agricoltori descrivere quella che è la problematica che si trovano ad affrontare e dall'altra parte per i nostri tecnici rispondere in maniera più puntuale e tempestiva. Rispetto ad altri nostri canali, Coltibayer contiene delle informazioni selezionate per rispondere alle esigenze di chi ricerca informazioni sui nostri prodotti da uno smartphone. All'interno dell'app si trovano diverse possibilità di navigazione, molte delle quali prevedono dei percorsi guidati. Questo per facilitare gli utenti a raggiungere i dati di loro interesse in maniera sempre più facile e veloce. Che programmi avete per il futuro dell'app Coltibayer? Coltibayer è scaricabile e disponibile su tutti gli store. Stiamo già lavorando a progetti futuri che prevedono l'integrazione anche della nostra offerta per il mais, ovvero tutti i libri di Amarchio Decalb, in modo da offrire ad agricoltori e tecnici di settore uno strumento ancora più completo.